L'occasione è veramente unica. Sabato 12 settembre a Palazzo Farnese, all'interno del Gran Galà Lirico Luci su Melodramma, il pubblico potrà assistere all'esecuzione con orchestra in prima assoluta del preludio e di un'aria dell'opera inedita Pierluigi Farnese sul libretto di Arrigo Boito e musicata da Costantino Palumbo, una serata organizzata dall'Associazione Amici della Lirica. All'interno di questo Gran Galà c'è una gemma. Si tratta di due aree tratte dall'opera inedita, quindi mai andata a scena, Pierluigi Farnese, che è un'opera ambientata nella città di Piacenza e nei suoi dintorni e per la prima volta queste aree verranno eseguite con l'orchestra. Inoltre verranno eseguite aree dalle più belle opere di Verdi, di Cilea, di Puccini, di Boito. Un evento unico sul quale sicuramente il Comune è con gran piacere dal supporto, mettendo a disposizione innanzitutto la sede, la sede più opportuna che è Palazzo Farnese. Infatti finalmente si dimostrerà come fuori dalla solita retorica anche l'opera, l'opera lirica è un'attività culturale sempre viva, sempre attiva. Qui a Piacenza con questo importante evento lo si capirà con la rappresentazione del Pierluigi Farnese.